Il palazzo della ragione era il luogo in cui veniva esercitata la giustizia e dove risiedevano sia i tribunali che gli uffici finanziari cittadini. La giustizia del tempo veniva amministrata in modo efficiente se dal punto di vista punitivo. Infatti qui tra Piazza delle Erbe e Piazza della Frutta nasce questa intenzione, l'arcata che vediamo sopra di noi, il volto della corda costruito nel 1277. Il volto della corda prende nome da un tratti di corda, un'immagine macabra. Su soffitto erano stati collocati cinque annelli dal quale penzolavano delle funi. Il condannato veniva legato ai polsi posti dietro la schiena e quindi salto su queste corde e lasciato penzolare in modo che il suo peso gravasse sulle giunture delle braccia e che quindi queste si spezzassero. Tuttavia le corde, anche se non venivano usate, venivano comunque lasciate appese cinque annelli nel volto della corda come monito per chiunque fosse malintenzionato e per ricordare i venditori di essere onesti. Nel 1273 il comune di Padova, per evitare le tuffe, fece incidere le quattro misure principali su pietra bianca. Qui abbiamo il coppo che serviva per misurare la farina, lo staro per i semi e i cereali, il quareo per i mattoni, il brazzolaro che invece serviva per misurare le stoffe. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS